Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale eccoci qui di nuovo con The Division allora proseguiamo la nostra avventura con il nostro personaggio cacciatore sportiveggioante dobbiamo raggiungere dei rifornimenti vediamo un pochino sto facendo sempre alcune missioni secondarie adesso ci spostiamo quella sulla mappa per vedere un po' cosa possiamo fare difendi i rifornimenti quegli altri rifornimenti scusi come ci arrivo là aspetti buon uomo dove mi posso arrampicare ah qua però è una bastardata sta cosa scusate eh capisco scorte sotto attacco però sei un po' bastardo perché me l'hai messe ad altezze diverse scusa eh ne vicino arrivo adesso ho queste qui sotto aspetta forse questi però ecco magari scorte sotto attacco ok aspettate ci facciamo dobbiamo fare per forza noi da avversaglio scendi scendi da qua cazzo aia aspettate intanto recuperiamo un po' di salute mentre loro non attaccano invece con l'altro sta attaccando le scorte il maledetto quali rifornimenti ah ce ne sono altri dall'altro lato momento aspetti merda dove stanno questi bastardi cazzo c'è anche sto maledetto fumo che non mi fa vedere una sega venga fuori occhio aspettate come ti sembra è una scatola piena di api come faccio a saperlo oh che schifo ce le ho addosso eh lo so ci sono anche altre robe da raccattare lavorano tutto l'inverno se hanno da mangiare stanno bene? dai stanno come stanno le api la città sta andando a puttane papà perché devo fare sta cosa? lo farei io ma non ci sono più autobus sentite eh una parola non durerà per sempre dobbiamo essere pronti alla primavera prenditi cura delle api e presto avremo ancora del miele sarà divertente ok questa si era una di quelle da fare assolutamente in cooperativa perché ti da posti diversi in merda guarda la mira mia che fa cacare però ok agente hai recuperato i rifornimenti a volte mi chiedo se valga la pena sforzarsi così tanto l'entropia è così forte ha senso combattere per contrattarla? bella domanda gente passo in grado mi ha dato anche un fottio di esperienza o sbaglio 15.000 o 1.500 in realtà doveva essere intorno a 1.000 e qualcosa però ho letto un bel po' di esperienza aspettate perché qui c'erano delle cose da raccattare avevamo visto prima quindi prima di spostarci alla prossima missione ci facciamo un recupero oggetti dal negozio pronti un po' di tessuto che c'è utile altro tessuto e dove stanno infrosciati gli altri dai che ce ne stanno altri sicuro dai eh ok finiti forse si a meno che non stanno anche nel retro bottega sembra di no allora vediamo un pochino le prossime missioni dove possono essere ce n'è una cioè sta dentro il rifugio scusate progetto M45A1 è anche violaggio vedo quello che hai fatto e mi dico che siamo vivi continuiamo persistiamo davvero un gesto altruistico ma ho una cosa per te qui starate e decidere se è degna di essere posseduta aspetta che torno lì scusate ma la felpa tattica vivace mi cos'è vediamo un pochino vabbè a parte le robe che mi ha dato qui aspetto vediamo dovrebbe essere tra le giacche presumo no tra le maglie forse felpa tattica vivace com'è boh non si vede benissimo con questa luce in realtà c'è sto focherello che comunque dicevo questi visto che alcuni li chiedono per questo equipaggiamento io in realtà non so se sia parte della perché come vi dicevo ho preso la diciamo la limited edition o quella con il season pass quindi potrebbero essere cose aggiuntive e ma posso entrare da qui scusa comunque nella base operativa c'è quello che vi dà le ricompense io l'ho presa direttamente da lui a gratis questi vestiti e me la dà lui la missione venite a vedere cosa vi perdete agente hai fatto quello che abbiamo chiesto quando valuti una persona devi giudicare le sue azioni non le sue parole quindi posso dire in tutta onestà che le tue azioni hanno avuto delle conseguenze non sta a me a giudicare nel tempo comunque grazie non tu m45 1 poi vediamo che qui cos'altro missione secondaria mi posso spostare direttamente così no perché non l'ho ancora scoperto possibile evidentemente no va bene io adesso mi faccio questa camminata allora visto che mi dà una nuova missione con un bel po' di esperienza l'M5A1 o quello che dobbiamo vederlo presumibilmente al banco da lavoro visto che sostanzialmente è un'arma che non ci ha dato direttamente nel senso ci ha dato il progetto poi tra l'altro dobbiamo controllare anche la possibilità di poterlo fare questo progetto di poterlo attuare montare perché comunque ci servono degli oggetti oggetti che possiamo eventualmente recuperare smontando alcune delle armi che abbiamo comunque controlleremo una volta tornati alla base principale come detto siccome siamo in zona io aspettate assalta la roccaforte vabbè ci stiamo facciamolo questo ragazzo magari ci da qualche punticino e quello ci spacca il culo aspetta con questa lo stordiamo merda si è bloccato il mondo ma che lancia la granata aspetta aspetta fatene da qua cazzo aspetta fammi far fuori prima questi poi mi sa che è tostarella questa spero di non essere io che sia giusto in questione aspetta questo ce lo facciamo con calma aia mortasci tu aspetta va questo mi sa che è meglio che faccia un nascondino qua momento tanto poi comunque guarda sto bastardo questo è tostarello pazza se è tosto sto bastardo fanculo questo non mi ha lasciato niente ma attenzione 11.000 punti però questi altri avevano lasciato qualcos'altro credo di no a parte qualche munizione che raccattiamo va bene proseguiamo per la nostra strada che ci portava qui almeno recuperiamo anche un po' di munizioni dal rifugio e soprattutto medikit che al momento ci servono va bene comunque non mi dispiaci neanche queste missioni secondarie anche perché ci stanno dando anche un bel po' di esperienza ora non so come è regolata questa esperienza perché come vedete se voi ci andate così se non sbaglio ne da meno no 10.000 anche così in anteprima prima ne avevo vista una mi sembrava di aver letto 1.400 1.500 poi alla fine ce n'è data di più forse chi è lascia stazio boraccio scusa guarda questi quindi probabilmente avevo letto male io però 10.000 di esperienza non è male non è male soprattutto come detto perché dobbiamo cazzo sto andando dobbiamo salire di livello ma posso entrare anche da qui per la base abbiamo un talento non assegnato adesso vediamo ah forse con il nuovo livello abbiamo sbloccato qualcosa qualche slot in più ok sbloccato delle mod per un'abilità le mod espandono e potenziano le abilità con nuove caratteristiche guarda mod abilità allora sotto degli slot talenti non assegnati scegli un talento da assegnare allo slot vuoto vediamo un pochino vediamo un pochino al momento abbiamo resistenza danni 40% per 10 secondi se usi un kit medico quando hai poca salute e ne possiamo attivare un altro abbiamo causa emorragia e un bersaglio 30% di possibilità di scatenare lo stesso effetto in tutti i nemici entro 10 metri oppure potenzi abilità più 20% per 30 secondi quando distruggi un oggetto causare fuoco a un bersaglio a 30% possibilità di scatenare lo stesso effetto vabbè non ho munizioni incendiarie al momento ed evidenzialo con impulso per 10 secondi danni esplosione quando offrisci più nemici con un esplosivo danni subiti meno 30% per 10 secondi quando uccidi un nemico mentre ti sposti quando usi un riparo eh onestamente non so se mettere questo qui o questa mettiamo questa che usiamo emorragia sempre se ne causiamo su uno per quanto riguarda questi ho questo qui che è già ha quell'abilità non so se mi ha sbloccato qualcosa per qualche altro oggetto ma non saprei perché questo qui attiva mod già ho questa qui danni aumentati quando attacchi un bersaglio stile identificato dalla scansione e ce l'abbiamo attivata per quanto riguarda questa non ho altre mod da attivare quindi questi sono i nostri vantaggi va bene quindi vediamo dov'è che si entra qua bene così tra l'altro tra l'altro vediamo tra le cose che abbiamo trovato nell'inventario se c'è qualcosa di utile allora per quanto riguarda le armi direi anche no le ginocchiere anche no guanti ecco al momento non abbiamo messo questi perché erano solamente due più forti e preferivo gli attributi di questo però 34 danni mitragliatrici aumento il danno riparo intelligente vabbè questi li mettiamo va bene allora nuovo nuova zona quindi vediamo questo quindi hanno mandato te ad aiutarci mi ricordi un po' il figlio di Sally quello che andava da Deckard prima che chiudessero il locale ti hanno messo un bar sportivo tutto fatto con soldi di famiglia tu pensa in ogni caso eccoci qua ed io solo sa quanta roba abbiamo da fare come quando il sergente McManus ha ricevuto l'incarico si venga al punto buono eh ok va bene andiamo tabellone delle emergenze così ci segna eventuale missione ok mappa aggiornata vediamo questo che se vende qualcosa di utile la pistola si ma per quel poco che la utilizzo eh questo non sarebbe male confronta con quello che ho adesso fa rispetto ai 610 860 non è male danni per secondo fa quasi mille danni per secondo in più infatti è che ogni volta che facciamo sto qui vi voglio vedere prima quello che ci ha sbloccato non vorrei acquistare un'arma che poi fa cagare cioè non che fa cagare perché comunque è buona però ok al rifugio abbiamo sbloccato cioè abbiamo sbloccato ci ha dato un bel po' di esperienza che è sempre utile prendiamo un po' di rifornimenti e guarda buon uomo nel caso io ti vendo anche qualcosa almeno mi e questo non ci interessa però posso vendere questo tanto quello che ho anche meglio questo qui ste ginocchiere anche se ci danno più 109 di salute quanti ti rilascio tutti e due vabbè è una vendita poi vediamo allora allora vediamo da qui che missioni abbiamo nei paraggi attenzione stai per uscire dall'area sicura e ci può stare è questa città 26.000 progetto vector e ci piace c'è anche il progetto vector progetto caricatore esteso 26.000 di esperienza e queste ci danno un bel po' di esperienza in questa zona progetto giubbotto vabbè facciamoci questa che sai nel 94 dovevano arrivare dei fondi per sistemare le strade i soldi sono spariti ma due settimane dopo la limousine del sindaco ha spaccato un semiasse su una bella bocca comunque anche oggi ci siamo persi dei rifornimenti ma la buona notizia è che i ragazzi di Ohurli li hanno trovati solo che non riescono a recuperarli dottori vi do una mano io quelli sono altri soggettoni che vanno eliminati ma una cosa alla volta oh scusate il cazzo ha visto aspetta si posta non so sto bastardo ok abbiamo alertato un po' di gente secondo me calcolando che li abbiamo trovati per strada questi così dietro al piccoletto maledetti raggiungi i rifornimenti allora non mi fate la cosa dei rifornimenti come prima che è un cazzo di casino aspettate qua devo lo prendo un po' di tessuto ci stiamo ok quest'altro aspetta aspetta cazzo stavo a prendere il tessuto stavo a far compere scusate cazzo andiamo andiamo più a estinto ok ok eh ho capito mi devi dare un po' di tempo mi è per sfiducia ci prego ciò che ciò che perdiamo tempo poi mi dimentico del cermere là dietro speravo che non sarebbe mai successo come sei messo con le propiste ne ho per tre mesi la scusa settimana ho controllato il filtro dell'acqua sì anche noi dovremmo essere a posto non si sa mai guadagniamo tempo non è qua merda quali rifornimenti quegli altri ok momento so che qua dobbiamo raccattare ancora una cassetta ma non ho tempo al momento aspetta aspetta cazzo non ci possiamo riparare qua dietro quindi ma guarda un po' proprio un bel lavoro un sacco di malati affamati stanno meglio grazie a te allora aspettate vado a recuperare quello che abbiamo lasciato qui no forse sono abbastanza vicini ci facciamo anche queste perché comunque sono punti che poi si vanno ad accumulare ai vari dipartimenti certo quelle secondarie danno molta più esperienza o comunque ti danno ti danno dei progetti utili però siccome questa è abbastanza vicina ce la facciamo poi torniamo nella nostra base principale perché voglio vedere i progetti di questi due sia del Vector che dell'altro fucilazzo come sono dov'è il ecco qua si però non mi puoi interrompere la registrazione perché una persona qualsiasi mi parla perché giustamente rimanendo fermi poi rompi il cazzo per tutta la una mano per trovare quelle scorte magari grazie eh vabbè scusa ma ne eravate buoni voi occhio queste ah come cazzo te la riporto aspetta non sapevo che era una cosa così abusiva posso fare il giro no te la devo riportare da qua quindi conviene prima sparare copritemi ma posso lasciare le scorte nel caso no scusate ma pure voi copritemi un pochino no non è per qualcosa la mano me la potevate pure da ah c'è ci sta un morto e un po' di gente che ci dà una piccola mano aspetti che gli lascio il primo valigione è una ok adesso metti il mitrone che mi spacchiamo qua merda scusi quanti il prossimo ok copritemi presumibilmente ne arriveranno altri no no quanto pare no meglio così ah no arrivano dall'altro lato cazzo io sempre qua il pirla che merda aspetta raccolgo dopo le scorte si però pure voi toglieti dai coglioni allora diciamo che i nostri colleghi sono relativamente inutili guanti antisommossa li prendiamo eh vabbè ma questi arrivano da tutte le parti allora aspettate se se arrivano con costanza come cazzo gli pare a loro non mi fermo neanche scusate tanto vale questi ce li massacrano all'istante le altre scorte dove stanno dall'altro lato ok però vabbè tenetemi di occhio ah queste stanno non lontane di più vai vai copritemi cazzo 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 occhio vanno lanciato una bomba giovani eh vabbè però pure voi siete un po' rincoglioniti eh io ve lo dico in amicizia però ok vabbè aspettate diamoli una mano ok e anche questa è fatta munizio eh lo so confusione tra l'altro confusione vi da anche qualche problema per quanto riguarda i comandi nel senso che si muove un po' alla cazzo di cane il personaggio dove sono le munizioni magari qui dentro si ok ci servivano perché ne abbiamo utilizzate un bel po' vediamo inventario allora questo niente di che questo però i guanti che avevamo trovato 46 di corazza più 45 danni mitra 14 anni critici salute riparo mobile ci piace bene così allora diciamo che ci teletrasportiamo nella nostra base così andiamo a vedere quelle due armi che abbiamo sblocca ci sono un fottio di icone qui in giro per la mappa dobbiamo fare un bel po' di incontri che sono quelli triangolini sostanzialmente arancioni o gialli verdi e blu che servono anche per guadagnare punti per i nostri dipartimenti le missioni secondarie le sto facendo però come vedete ogni tanto rispippolano fuori perché quando voi andate alle bacheche vi aggiorna con nuove missioni quindi è un buon modo per fare esperienza noi per la prossima missione dobbiamo essere almeno di livello 16 quindi ci proviamo e quella si trova oltre la zona nera quindi dall'altro lato di New York vediamo vediamo un pochino qui abbiamo un po' di risorse ma ce le teniamo voglio vedere solamente lì nel tra l'altro lì abbiamo recuperato solo munizioni quindi ci vorranno sempre recuperare il riportimento allora vediamo dovrebbe essere qui nel fai da te controlliamo un po' ah è una pistolazza cazzuta il vector anche sembra non male questo qui ok possiamo farla abbiamo rispetto a quello che abbiamo adesso meno cpm il caricatore è molto più piccolo e il danno vabbè il doppio non sarebbe male se la creo cosa non è abbastanza risorse perché ci mancano componenti armi ne abbiamo 4 di 11 e strumenti ce li abbiamo qui cosa ci vuole strumenti e componenti armi ne manca uno questo fucile d'assalto ce lo mette al posto di quello lì però il vector credo sia un po' più da distanza ravvicinata tra l'altro livello 16 quindi non potremo neanche utilizzarlo questo non so perché me lo dai rosso forse perché non possiamo costruirlo non perché non siamo di livello 15 ok allora in realtà la pistolina quasi la farei componenti armi non so se devono essere per forza blu sta di fatto che magari noi smontiamo qualcosa di quello che abbiamo spero di avere qualcosa da poter smontare mitra fucile d'assalto abbiamo un paio di mitra quindi proviamo a smantellare questo ci ha dato due componenti per armi verde ce lo segna quindi dobbiamo controllare che sia quello lì poi abbiamo un pompazza che però non è che utilizziamo molto quindi direi di smantellare anche questo quindi abbiamo quattro componenti per armi vediamo se possono andar bene tra l'altro quello che vi dicevo l'altra volta era se non sbaglio qui ecco come vedete componenti armi ad esempio di alta gamma richiede un tot di componenti armi vedete lì sotto 4 di 5 componenti armi come vedete questi qui blu ah no quindi ce l'avevamo noi ci servono quelli blu e per farne uno ce ne servono 5 di quelli verdi stessa cosa strada facendo quindi potete aumentare diciamo la qualità dei componenti che smontate fondendone 5 della del colore barra potenza inferiore quindi 5 di verdi ne fanno uno blu 5 di blu ne fanno uno d'oro o giallo quindi a noi ci servono questi ne facciamo un devo tenere premuto ok e ne faccio un altro ok in linea teorica adesso dovrei averne a sufficienza per fare la pistola ah no 11 ce ne servono vacca troia ma servivano 11 anche prima questo adesso ne abbiamo a sufficienza però non abbiamo il livello no mi sa che non ce la facciamo ad arrivare eh no stessa cosa per gli strumenti qualcuno in più non so se lo possiamo fare quanti strumenti abbiamo verdi si perché comunque le armi almeno quelle blu o viola andrò a fare quindi quelli verdi relativamente ci servono quindi faccio anche questi un paio me li faccio e va bene comunque vabbè vi ho fatto vedere un attimo anche questa cosa del per aumentare questi pezzi quindi io direi di aspettare un pochino almeno per farci questa pistola biola che sarebbe come vedete la classe elite quella blu è specializzato è un gradino sotto e quella verde è standard un gradino sotto al blu poi c'è il bianco sostanzialmente non abbiamo niente abbiamo smantellato tutto va bene quindi a questo punto direi che possiamo rimanere così direi di sì non investiamo troppe risorse per fare cose che magari poi non andiamo ad utilizzare quindi puntiamo all'equipaggiamento elite va bene ragazzi allora a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di The Division voi come sempre commentate fatemi sapere la vostra io continuerò magari a fare queste missioni perché almeno andiamo a sbloccare i progetti ed eventualmente armi migliori quindi è necessario fare anche le missioni secondarie che in realtà come detto non è che mi dispiacciano più di tanto vediamo nel prossimo episodio di farne qualcun'altra così almeno abbiamo anche una maggior scelta per quanto riguarda le missioni le missioni le armi da poter fare qui ci siamo stati sì però c'è qualcosa da fare tabellone emergenze forse è da aggiornare va bene dai ci vediamo alla prossima prima di poter andare a fare queste missioni livello 16 questo 18 vabbè prossimamente le andremo a vedere dai ragazzi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento un saluto a tutti da quel taleale grazie a tutti